Signore, ti parli della radio, e frigente l'armadio, ma sì, ma sì, 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 è la radio lo strumento che trasmette la reclame al formaggio e dal salame, e tu paghi per sentire cose che l'imbonimento, chi non volle mai sentire, se lo deve oggi subire e pagarlo per di più, ta ta ta, ta ta ta, schiocca la frusta e va, ta ta ta, ta ta ta, schiocca la frusta e va, ta 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 ta, schiocca la frusta e va. E dica quello che lei sa intorno al teatro d'oggi giorno, su, di caso, di caso. Il teatro si direbbe che dovrebbe divertire, ma talvolta fa dormire e giammai ti fa sognare, così che chi vuol vedere veramente una tragedia, può sedersi su una sedia nella Spagna d'oggi di, ta ta ta, ta 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 ta, e schiocca la frusta e va, ta ta ta, schiocca la frusta e va, ta 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 ta, schiocca la frusta e va, ta 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 ta. Oh caro, che gliene pare della stampa, che dovunque tiene la zampa, ma, 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 si direbbe che la stampa è la grande informatrice, d'ogni cosa che si dice, d'ogni cosa che si fa, ma se leggi una notizia nelle lingue forestiere, non riesci più a sapere dove sta la verità, ta ta ta, ta ta ta, e schiocca la frusta e va, ta ta ta, ta ta ta, schiocca la frusta e va, ta 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 ta. Amico, se non le dispiace, ci parli della pace. Si direbbe che la pace la si ottiene con la guerra, se ogni stato della terra arma gran velocità, sugli scambi son d'accordo, niente grano né carbone, solo piombo a profusione, e tutto il mondo scambierà, ta ta ta, ta ta ta, e schiocca la frusta e va, ta 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 ta, schiocca la frusta e va. E dica perché nel mondo ormai non si è tranquilli mai? Si potrebbe star tranquilli con le cose che in eterno ci ha donato il padre eterno, ma purtroppo non si può, e a spartirle ci sta l'uomo con dissimili bilance, così che vi sarampance, vuote e piene ad ogni età, ta ta ta, ta ta ta, e schiocca la frusta e va, ta ta ta, schiocca la frusta e va.